Va bene, va bene, uff, bene, come non ha detto? Ah, 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 devi cercare di tenere lo stesso, non vedo l'ora che venga domattina, devo andare a scuola. Fatti bubucciare ragazzi quest'anno così non andate più all'istituto d'arte, che casino, la pallina deve passare di qui. Aggiungo che il filo è stato tagliato, non c'è più niente da fare, cioccolato col tè, dove è andato l'altro capo? Viene, quello, e voilà. La mia è troppo stretta, così. Fate il rotolino, cos'è te detto Ronchi, cos'è te detto Ronchi, cos'è te detto Ronchi, a me niente, 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 niente! Eeeh, hai capito bene tutte le parole, a che punto è il cioccolato col tè, non mi ricordo più, è prima del rotolino, è dopo il rotolino, è quasi finito, è quasi finito. È quasi finito, è quasi finito, è quasi finito, è quasi finito, è quasi finito. Allora andiamo? 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 Vieni un po' di là. Sono in massa a metà, sono qui nel mezzo, nel di qua, nel di là, cosa preferisco, la tua compagnia o la noia che ho? A cavallo, dai, dai, dai. A cavallo, cosa ti farei? Soli al fondo, siamo oratori. E cavallo, quanto bella sei. Non mi rifiuti mai, se mi lasci un giorno, dimmi cosa farai? A cavallo, dai, 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 dai. A cavallo, cosa ti farei? Soli al fondo, rimarremo noi. E cavallo, quanto bella sei.